Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo quello che è l'errore principale più comune che viene fatto in palestra. No, non è vero, c'erano tantissimi, però uno dei principali, che è allenare tutti i muscoli nello stesso modo. Ossia indistintamente tutti i muscoli allenano nello stesso modo. Quindi per esempio uno schema, un metodo di allenamento come l'heavy duty, un FST7, quello che ti pare. Ecco, io lo applico a tutti gli stretti muscolari. Quindi per esempio ho una scheda, primo esercizio di preattivazione, secondo esercizio pesante, loading set back off, terzo esercizio, utilizzo un cluster set, eccetera, eccetera. E lo faccio per tutti i distretti in maniera indistinta. Con l'idea, se funziona o se ha funzionato per questo distretto muscolare funzionerà per tutti. Oppure al contempo voglio provare questo metodo, lo sperimento per tutti i distretti muscolari. In questo video cercheremo di capire perché è sbagliato e perché su diversi distretti muscolari dovrebbero essere allenati diversamente. Ora, cosa intendiamo per diversamente? Che cosa vuol dire diversamente? Beh, innanzitutto il volume di allenamento. Nel senso i distretti dovrebbero essere allenati con volumi di allenamento differenti. Il range di volume, perché parliamo sempre di range, non è il numero preciso di serie che si devono fare, il range di volume si differenzia tra diversi distretti. Ora, generalmente facciamo una generalizzazione. Non è molto preciso, però siamo molto più precisi. Per esempio nel libro, culturismo, la guida completa, là sono preciso e ci sono schemi per tutti i distretti muscolari, come anche nel nostro videocorso su Renownation. Però facciamo un discorso generale. I distretti più piccoli sono distretti che tendono ad avere una soglia ipertrofica un po' più bassa, quindi si stimolano a livello ipertrofico più facilmente, anche perché sono fortemente coinvolti poi nel lavoro dei distretti più grandi, e al contempo hanno una capacità di recupero molto più spiccata, quindi riescono a sopportare volumi di allenamento maggiori. Viceversa i distretti più grandi hanno la tendenza a avere soglie stimolatorie un po' più alte, quindi hanno bisogno di più serie di lavoro per poter essere stimolati, ma al contempo non riusciamo a spingerci troppo, perché la capacità di recupero tende ad essere inferiore. Ora, questo che cosa vuol dire? Sui distretti tendenzialmente più grandi, come i quadricipiti, come il petto, come il dorso, la nostra rosa, il nostro range di volume è un po' più stretto, ok? Stretto in questo senso, nel senso devo arrivare almeno a un certo volume per poterlo stimolare, ma poi raggiunto questo volume stimolatorio minimo, quindi il minimo volume efficace, non posso salire più di tanto perché a un certo punto non mi recupera più il distretto, non mi sopporta tanto volume. Viceversa i distretti più piccoli, e di nuovo grandi piccoli, è una generalizzazione, ok? Però serve un po' per intuire. Gli stretti più piccoli posso stimolarli anche con un volume inferiore, quindi possono lavorare a volumi inferiori. Questo in maniera analitica, perché poi al lato pratico sta di fatto che intervengono anche molti compound. Ma al contempo poi posso spingerli veramente, veramente, veramente tanto. Cioè riescono ad arrivare a dei volumi di allenamento molto elevati, molto elevati. Quindi addirittura io ho fatto un video provocatorio, tra virgolette, su Instagram. Tra l'altro seguimi su Instagram se non mi segui ludovico.lemme. Mi raccomando, perché sennò ti perdi veramente tantissima roba, perché pubblico tantissimo. E ho fatto un video stimolatorio, dico, non ti crescono le braccia, allenale tutti i giorni. Il video, il senso del video è, puoi dedicare un mese ciclo allenandole tutti i giorni, fino ad arrivare in overreaching e poi scaricare. Quindi logicamente non allenare tutti i giorni come soluzione definitiva è tutto. Però il fatto sta che riescono a reggere quel tipo di volume, quel tipo di frequenza di allenamento, perché sono diverse dal petto, che ad esempio si avrebbe un po' più di difficoltà ad allenarlo tutti i giorni, per non parlare poi delle gambe. Quindi la prima cosa sta sul volume. Il range di ripetizioni. Il range di ripetizioni anche si differenzia, quindi il range di ripetizioni che abbiamo su un quadricipite è diverso da quello che abbiamo sui femorali, piuttosto che su le braccia, bicipiti, o anche bicipiti rispetto a tricipiti, o petto, eccetera, eccetera. Perché il range di ripetizioni si differenzia? Ma anche perché il volume, perché ci sono in generale queste differenze, che poi sono anche rivolte alle tecniche di intensità, che sono rivolte al tempi di recupero tra le serie, sono rivolte a frequenza di allenamento. Perché ci sono tutte queste differenze? Allora, non è tanto una differenza del muscolo. Questa è la diversità. Si dice, ah, la gente crede che i muscoli sono fatti diversamente. Sì, c'è una differenza, logicamente, in percentuale composizione delle fibre, però predice realmente poco di quelle che sono i margini di adattamento. Perché non è tanto in chiave ipertrofica. Io quello che so è che per allenare un muscolo devo massimizzare il rapporto stimolo-recupero, ma non è tanto lo stimolo che ci interessa, quanto piuttosto il profilo di recupero. Il discorso fondamentale del perché ci sono queste differenze sta nel fatto che noi, per allenare un muscolo, non è che lo prendiamo così, questo è un tramcio di muscolo, bacchetta magica, boom, vado a imprimerti degli stimoli di adattamento. Non è così che funziona. Dobbiamo utilizzare degli strumenti. Quali sono gli strumenti? Sono degli esercizi. Gli esercizi hanno meccaniche che sono molto differenti. E a questo andiamo pure ad aggiungere il fatto che un muscolo è inserito in un sistema. Cioè non è che se ne gira così da solo, come i pianeti erranti, no? Che sono dei pianeti che non hanno una stella e se ne girano da soli nell'universo così. Ecco, non è così. Il muscolo sta all'interno di un sistema. Per esempio il petto è ancorato alla spalla, si muove in funzione, lo stimoliamo in funzione dell'omero, quindi ci sarà questa articolazione che è l'articolazione della spalla che si muove, che è piuttosto mobile. Il quadricipite sta sul ginocchio. Il ginocchio è un'altra articolazione che concordiamo, concorderemo, è molto diversa rispetto alla spalla. Quindi inserendoci su sistemi differenti abbiamo anche tutta una sinergia, non soltanto articolare, quindi una diversità articolare, ma anche una sinergia differente dei distretti. Quindi abbiamo dei distretti sinergici nel movimento, quindi per esempio in una spinta il tricipite, in una cosciata il gluteo, che sono a loro volta dei distretti differenti, che a loro volta si inseriscono nel movimento in maniera differente. Insomma, ci sono tante diversità quando poi io il muscolo lo devo allenare in sala. Io semplicemente quello che dico è provate a fare una serie di 40 ripetizioni sulla pressa. Se siete avanzati sono tipologie di stimolo che conviene inserire, ok? Sui quadricipiti. Ora, provate al tempo stesso a farla alle machine flies, quindi la pectoral, come volete chiamarla, il macchinario per le croci. Sentirete molto differente, sentirete molto fastidio, magari articolare, sentirete che a un certo punto non stabilizzate più bene. Provate a farla un raw, un rematore. Sentite a un certo punto l'attivazione del dorso non è più quella che è, abbiamo le avambracci che si affaticano, comunque la spalla che deve essere tenuta in depressione scapolare, cioè c'è tutto un sistema sinergico molto differente. Provate a farla agli stacchi. Sugli stacchi si cede molto più da un punto di vista di effort, di fatica, piuttosto che muscolare. Quindi ci sono alcune cose che funzionano bene su una tipologia di esercizi e non su altri. Quindi alla fine mi trovo nella situazione tale per cui se tiro le somme e vado ad analizzare, vado a calcolare più o meno tutto quanto, avrò dei range di lavoro che sono parzialmente differenti. Cioè io so che un dorso, faccio l'esempio, non posso allenarlo tanto sulle basse ripetizioni e alti carichi. Togliendo il discorso degli stacchi, parliamo proprio di gran dorsale e lavori specifici. Ora, non è che non posso o non è che non è ipertrofico, ma non ci concentrerei il grosso del mio allenamento, perché è molto probabile che ci sia un forte intervento sistemico di altri stretti, perché è molto più difficile attivarlo, perché c'è un maggior lavoro sistemico rispetto a quello che può essere un allenamento di un gran pettorale, perché al tempo stesso la maggior parte degli esercizi per il gran dorsale hanno un forte sticking point. Quindi da questo punto di vista non riesco ad avere quella fluidità del gesto che mi è concessa da profili di resistenza. In altre parole, faccio due ripetizioni e poi già non riesco più a chiudere il movimento, perché sento questo forte sticking point. Se ho dei forti sticking point, è molto più difficile progredire e soprattutto lavorare laddove si sentono molto di più sulle basse ripetizioni. Quindi capiamo che da questo punto di vista sul dorso non conviene lavorare tanto sulle basse. Che cosa vuol dire? Che ovviamente i rep range che io vado a identificare, e ho fatto esempio il rep range, ma ovviamente ci sta di mezzo il discorso del recupero, alcuni distretti muscolari sono molto più soggetti a DOMS rispetto ad altri. Questo per la struttura anatomica, banalmente il petto, questa posizione di massimo stretch del petto, più o meno massimo, posizione che fisiologicamente siamo meno predisposti ad avere, e quindi automaticamente andrà a creare più danno muscolare rispetto a quello che è un dorso, perché noi siamo arrampicatori, quindi nella posizione di stretch del dorso, siamo molto più abituati a tenerla. Quindi là tendiamo a sentire meno DOMS sul dorso rispetto al petto, questa è la generalità. Poi ci sarà sempre la persona che commenterà, io sento più DOMS al dorso rispetto al petto, ok. Ma la maggior parte delle persone sentono più facilmente DOMS al petto, o DOMS alle gambe rispetto alle spalle. Qual è il discorso? Che la spalla e il deltoide non conviene, non possiamo quasi mai lavorarla in massimo allungamento, perché quando scendiamo a un certo punto c'è il tronco che ci blocca. Tutte queste sfaccettature ci portano poi ad avere delle risultanti pratiche differenti, per cui andando ad analizzare tutti i distretti muscolari otterrò dei range, un range di volume ideale, un range di ripetizione ideale, un range di quello che ti pare, tecniche di intensità che si prestano meglio o peggio, ma di nuovo non perché il muscolo sia differente, perché ho deciso così, perché c'è una struttura differente eccetera, ma perché all'atto pratico vedo che in quel range lavoro più efficacemente per la maggior parte delle persone, che non vuol dire di togliere tutto il resto, ma di concentrare il grosso, attenzione, il grosso del lavoro su quel range. E di nuovo, in ultima per precisazione, questi rep range non sono super differenti, cioè se lavorate sulle 8-12 ripetizioni, bene o male beccate tutto quanto, ok. Cioè tutto quanto può essere ben stimolato in maniera ottimale sulle 8-12 reps. Sono dei lavori che si inseriscono un po' di più quando si inizia a essere un po' più avanzati, in cui devo differenziare. Ma le differenze non sono minime, cioè su un dorso non andrei a lavorare sulle 5 ripetizioni, partirei su un 8-RM, sul petto lavorerei tranquillamente su un 5-6-RM, lo inserirei come lavoro. Questo è più o meno. Quando sono un avanzato, peraltro, alcuni rep range si tolgono dall'equazione, quelli bassi, immaginiamo questo, che io ho i miei rep range, immaginate un ventaglio così, pian piano, man mano che diventa avanzato, qua inizio a cannibalizzare il rep range. In questo senso. Perché questo? Perché l'avanzato è automaticamente, per definizione, un atleta che si allena più tempo, quindi un atleta alle cui strutture legamentose e tendine sono soggette a overload da più anni. automaticamente stanno maggiormente in sofferenza, quindi bisogna essere intelligenti e prevenire eventuali infortuni, quindi diminuire il rischio infortuni, andando a togliere quelli che sono rep range più bassi. Quindi magari su un atleta avanzato non esiste lavorare sotto le 10 reps su stacchi o sotto le 10 reps su pressa o hack squat, perché sono carichi che semplicemente sono troppo rischiosi. Poi non è che succede qualcosa, non è che si sentono male, ma sono rischiosi. E non mi posso giocare una stagione intera semplicemente per il fatto che ho scelto un 8 RM invece di poter giocarmi su un 10, un 12 RM. Perché poi là è sempre un discorso di finezze. Bene ragazzi, questo è un po' il succo del discorso. Di nuovo, andremo poi a ragionare sui singoli distretti muscolari in altri video, ma c'è il videocorso su Rhinonation in cui siamo super super ed esastativi. Io da ultimo vi ricordo sempre, seguiteci su Instagram, ludovico.lemme, seguite la pagina di Rhinonation su Instagram, la pagina di Rhinoncoaching, giorgia.baglio, insomma tutti i nostri profili su Instagram, perché siamo super super attivi e pubblichiamo tantissimo. Per il resto, qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben liato di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.